A Ischia nasce il primo giardino dedicato agli ammalati di Alzheimer. Il servizio è di Enrico Doringer. Per le persone affette da demenza, il ritorno alla natura è senza dubbio una nuova possibilità di vita. In quest'ottica è stato realizzato ed inaugurato ad Ischia, a Villa Mercede, nel comune di Serrara Fontana, il primo giardino Alzheimer della Campania. Uno spazio verde protetto che, come moderno strumento terapeutico, riduce l'utilizzo di farmaci e la contenzione, restituendo la dignità ai malati di mente. Il paziente di Alzheimer, a un certo punto della malattia, ha il cosiddetto wondering, il vagabondaggio. Gira senza una meta e contenendolo lui si innervosirebbe. Mentre nel giardino Alzheimer il paziente può essere libero ma nello stesso tempo non andare incontro a pericoli. Questo giardino è la dimostrazione di come i soldi pubblici possano essere spesi bene. E speriamo di aver fatto una cosa utile non solo a noi, ma soprattutto ai pazienti e ai cittadini di questa piccola comunità. Un ambiente sicuro, ideale per compensare i deficit funzionali e per stimolare le abilità residue della persona affetta da demenza, attraverso un percorso che dona senso della libertà, stempera l'aggressività, favorendo l'autonomia dei pazienti nella cura delle piante e dell'orto, in completa assenza di pericoli.